Grazie per aver guardato il vostro programma al caso. Al caso di AVE, sicuramente, non solo per la temporada che noi stiamo, ma realmente il tema che noi stiamo trattando a AVE è un tema per chi è il caso di existire, per chi è il caso di presentare e chi è la motivazione che vive attraverso lui. AVE mi ti un invitato, con già diversi viaggi in programma, e è un invitato che sicuramente viaggiare in cui stiamo presentando su mestre, che causa un gran impatto in televisione. in cui viaggiare in cui stiamo presentando l'alma, l'espirito e la gente. AVE non è un po' diverso, ma mi voglio condividere un aspetto, AVE, importante, principalmente per lo che sta a mia persona e le persone che mi ti invitano a AVE. Ti inviare un commentario, è un hobby buono, ma ti inviare un commentario da AVE, di critica. che mi ti inviare un po' diverso, ma ti inviare un po' diverso, ma ti inviare un po' diverso. e non si prende così forte, così realmente non si dimenticare il nostro ego, magari è il nostro enemigo ancora. ma per il motivo del tema e della persona principale nel quale il nostro servizio e obedece, il nostro mestre propone tutto il nostro umbanda, per il nostro servizio e il gran rei. Non solo servizio e il gran rei, ma per il nostro servizio e il gran rei, che sono come nostra mani trattando AVE. Siamo un piacere, per presentare a mio buon amico il rumanzo Ramfis Qualfi. Ramfis, grazie a voi per aire il mio intervento. Una piacere, grazie a voi. E ora AVE, per Christi come. Questo è un po' di un stronghold, l'oplie che si sa ficando in un' carbonazione. Ropi cristiani aveva una vita per comandare una guerra, una guerra personal, una stronghold. Non c'è una guerra contro il nome, il satanato, l'enemico, l'adversario principale di Dio, aveva preso, non c'è una fortaleza, inglese, fortress, holandese, ballwerk, attadura, bolligilo, anche qui con la razza non c'è una cadena. Per esempio, abbiamo stronghold, ovvio, maniera, non c'è una droga, adicca una bebida, cigarrà, alcorso, abbiamo visto il risultato, abbiamo visto che persone, a pesar di che non c'è, è assa, perché non c'è, usa droga, è un'altra cosa. Poi, abbiamo visto che vi, parlo di vista, con il vino, mi era ento appassi, non c'è quello che mi non capasse, non c'è, non c'è perché, sapendo che mi ha fatto qualcosa che non c'è. Abbiamo altri tipi di stronghold, ma più ancora, che la codependenza. Mi è stato appare a che non c'è un programma, visto un viaggio con T35 anni, ma ho descubri che la maniera come mi tratato, e si è morto molto tempo. Trattami, in principio, trattami per la crescita nella vita. E trattami un stronghold per me. Una cosa che la mia mamma educavo con noi, che aveva un'influenza quando mori, rompere con la moglie, e pensare che vivi con noi e vivi 200 anni. Non c'è un stronghold, non c'è un stronghold, non c'è un stronghold, non c'è un stronghold, non c'è un abuso. Per esempio, non c'è un grande fenomeno cristiano, non c'è un abuso, non c'è un rapo, violenza, non c'è un battimento, che ci sono alcuni, che siano le sciclazioni, ma le scopi, ma le alamore. Quindi, non c'è un dettaglio che avevano con noi, ma ci sono anche le quali privati, non c'è un problema, Per esempio, addicción sexual, pornografia. Anche quico bohassi, bota prometevo mes, bota comprometevo mes, mi nota bai sube internet, bota si è tog. You can run, but you can't hide. E cose da seguibo. Non c'è più pericoloso, ma non c'è più pericoloso, ma non c'è più pericoloso. C'è più gusto, c'è più felicità, c'è più passione. E non c'è più depressivo, non c'è più difficile, non c'è più. Non c'è più placca, non c'è più gusto, non c'è più gusto. C'è più forte, è un mindset di accettare una situazione come se fosse un cambiamento. E' strano. E' strano. E' strano che il cristiano vuole che sia una Diozza trae. E' strano che il cristiano vuole che non vuole avere un stronghold. E' strano che non vuole avere un problema importante. C'è un problema che c'è un papi a favor della sua bonde, di justicia. E' un altro che c'è più rèbito, di odio. va partendo il clavo su cabeza cosa chiamano il conflitto va sobra ente, il estrangolo che è un' guerra spirituale non ci parla come io di Dio del conflitto angélico il conflitto angélico è un conflitto entre reino di Dio e reino di Satanas se ne viene da un po' di paura che si diceva avesse come non vuolette è una cosa in gente Non si arriva a fare un sostenibile, non si arriva a fare un sostenibile e si arriva a fare un uomo. E' un goente che dice «en gente poteva a dare un guante» Non, e non poteva dare un guante, non forzava «en mo state» Orse ha perduto l'uso in control, e ora si arriva, si arriva a fare un ser, «en la sette i uomo» Non c'è una gente per combattere un self-control, un stronghold libero-sumesso. È impossibile. Però tog! Bopo raciè! Bopo raciè! Bopo raciè! È un calma! È un calma! E' una gente per sentire un bel dato, che è un calma! E' un calma reale! Non è un calma! Bopo raciè! È un calma! E si so, Now ci sono in relazione con una persona, con un serbom, un progettivo, un progettivo, un progettivo, un progettivo, un progettivo, un progettivo, un progettivo e un progettivo. Un giorno aveva una conversazione con lui, profonda, profonda e spirituale. E lui diceva, ma questo è realmente un progettivo. La mia alma è stata lighta. Non può cargare nessuna gente nel corso. E lui diceva, è un progettivo. Ma sono la笑mazione con lui, pure la mia umare di un picco di metà di hash. E lui dicevo però, aveva la sua 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 sua, tu şismaria era un progettivo. E lui diceva, ma non può garantire la sua sua sua. Perché sa cosa sia? Perché è un progettivo, diosc Vira, e queda un stronghold d'accordo. He got your mind. E' da un buon mente. Per non essere un buon mente, è molto più di mente. Espiritu, alma e curva. E questo, con un stronghold che ha un buon controllo, non può produci. E' da un buon crescimento. Stronghold d'accordo è parte di un processo espiritual che non lo faccio. Però poi puoi mettere una band, seguire la vita e poi leo, leo stronghold e poi tornerà in questa domocamina. Però ogni volta che tornerà, tornerà più. E' da un problema spirituale. Per chi ha un buon mente? E' da un buon mente, e non si tratta di suicidio della stronghold dove non si tratta di comprare. Sendo che è un problema spirituale, bisogna fare quello spiritualmente. che si chiama il Dio. Non cambia, non gana una battaglia spirituale usando carne per provocare carne. E se non c'è un'automità, non c'è un'automità, non c'è un'automità, non c'è un'automità, ma c'è un'automità, ma c'è un'automità, ma c'è un'automità, ma c'è un'automità. Un'automità di carne, che vuoi fare la carne? La carne è la sua volontà. Non c'è un'automità di carne. C'è un'automità di carne, non? E se non c'è un'automità di carne, e sento che la carne è la sua volontà. Non si può dire una sua volontà. La carne è la sua volontà, ma c'è un'automità di carne più. Quando si è un uomo, la carne è la sua, la carne è la sua, ma la carne è la sua. La carne è la sua, età la mia! Prima di aver capito di carne, La gente non ha capito di capturare, non ha capito di carne, non ha capito di la sua alma, non ha capito di spirito. Il spirito ha gasolino che si può autocorre, la sua alma ha un motor, un computer. E non ha capito di avere accesso. Perché non c'è guerra, non c'è conflitto angelicale e non c'è nulla altra data di heavenly places. E qui non c'è. Ora, se si potremmo, non c'è un problema, non è capito di chi. Ora, si potremmo, se potremmo, possiamo riconoscere il un calcio di vita. No c'è aż? Non c'è, sì. Non c'è sempre un progetto di consapevole. Sì, c'è una cosa che si potremmo. S'è l'organizzazione che si potremmo. Alla cosa, invece, che ci sono stati dimenticabile. Alla cosa che ci sono stati da male, non c'è una persona sensazione che si conosciera. uno, ma si può fare un lavoro, nessuno lo vuole, nessuno lo vuole, nessuno può fare un casamento, una relazione, perché non si può fare un stronghold, non si può fare una religione, perché non si può fare un stronghold. Quattro punti. Il primo punto, review, revisare, guardare la posizione di Cristo. Voi un review un rato di religione, noi abbiamo fatto molto tempo. C'è cosa che succede? Dice che non si può fare la Pasqua, non dice? Correcto. C'è cosa che succede con la cruz del Calvario? La gente che ricotta un hombre inocente a cargar il castiglio per tutti gli altri, non è vero. Dice che non si può fare la Pasqua, che sta a fare la Pasqua, non si può fare la Pasqua, non si può fare la Pasqua. E' la mia vita che si può fare la Pasqua, non si può fare la Pasqua. La mia vita è la posizione di pecatori per la mia vita di amore di amore. per aver avuto il cammino via il reddante di séio di Gesù Cristo, Dio ha avuto la gente di Gesù Cristo, per tracere la conciliazione sia il bridge entre noi e lui. Ma questo è un metafora per tutti i ragazzi comprenderli. Per esempio, amico con il tuo brother, non c'era l'America, non c'era l'Holanda, l'America, 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 l'America. A me abbia il cammino, ma nec tujeni, ma virò un bandido, ma asta defraudà a me, mio mio amico. A me abbia il giù Cristo. Un dia, un dia, un dia, a me, come ranfis e bandido, t'ai chiamé la Mesa Verda e l'antichù Cristo Raffaele. Tur, stazione di radio, television, tabini, CNN, tur. Non c'era il giù Cristo Raffaele, come ti vai condenare e sentenciare il suo brother Raffaele. Il giù Cristo Raffaele va sentenciare e condenare il suo brother Raffaele, nella pena, un máximo di 50 mil dollari. Il giù Cristo Raffaele, l'antichù, quita il giù Cristo Raffaele, il giù Cristo Raffaele, 50 mil, pagaio per me, non ho ricevuto, che la pagaio per me. Il giù Cristo Raffaele, si sente lo che Cristo face per noi, sente lo che Dio face per noi. Perchè lo che la si è? Perchè lo che le faccio? Perchè lo faccio in 3 Dias e mes di satisfecchio che ta, che tra boi di Cristo, la Cruz, a elevar Cristo, posicionei in un'umanosia, in un'evendly place di cielo, donando Cristo e autorità legale per se la derrota e disarmare Satanà. E autorità, e Jesus ha avversato tutti i angeli di good, bad, and ugly che poi ci sono dei nostri amici di heavenly places. Però, junto con Cristo, ci sono gli amici e milioni di gente che hanno avuto il Cristo non teme a ordine elevato, non spirito che sta del cielo. Se buio, a qui ten, bene un'ergo sta del negocio, e mira un'cosso, in questo primo lugar, e ten autorità legale di pari, perché è stato del bo, nostro del Cristo. Satanà non c'è nessun diritto a mai, che tenere nella presione. Satanà non c'è nessun diritto, non c'è nessun diritto a noi, Satana sta rungendo la nostra mente per aiutare a noi a lubidare esse la fede come d'hemi? è che per noi lubidare esse, per soltanto la nostra lubidare, la nostra appellare la nostra direzione legale, che la nostra libera di Cristo, la parola di ottimista la nostra libera di verità, è in dir Satana non ha nessuna autorità di enchere l'umas che mi ha detto non abbiamo pensato a questa soluzione qui abbiamo non abbiamo pensato a questa soluzione qui abbiamo pensato a questa soluzione per noi per combattere un problema spirituale di una maniera mondana guardiamo la posizione di Cristo qu'è la posizione? abbiamo una autorità legale un refri dell'American football abbiamo un deal con poco che è più grande che è più forte che è più grande che è più speciale quindi dopo prima che c'è l'American football l'American football e mi ha detto che c'è l'autorità è un'autorità legale, è morto lo che è passato nel cielo di Calvario, perché non c'è un recibo che è pica con noi, perché è pica con noi, perché è pica con noi, contro Dio, a guarda di pagare. Gesù si mori, è l'altra parola, che te l'estai, che te l'estai. E' un'autorità legale, che è un'autorità legale, e la compensazione di noi, è un'autorità completa. Televidenti, buon programma al caso, tratando un tema, in una importante maniera, lo che è stato attra, è obra e mission di Gesù, arriva al mondo. Non ci si trattano, ma arriva il tema, qui è un rostro bello. Un'autorità legale, è un'autorità legale, che è un'autorità legale. Non ci si trattano, non ci si trattano, a chi è il nostro amico. che è un tema interessante, trattando qui, la vita e la missione di Gesù, arriva al mondo. E, realmente, che cosa ti ha proposto, trattano, che ti ho ricordato, al caso che arriva al YouTube, non ti ho invitato a buscare, al caso che vengono a un altro, non lo scrive al caso, sino al caso che vengono a un altro, a YouTube, automaticamente lo scrive a questa piattaforma, e ogni programma va automaticamente nel mio cellulare, nel mio computer, nel mio desktop, per se vi faccio un viaggio di più. Oggi, anche, vi mandare per altri cittadini, che vi voglia di compartire il programma qui. Un'autorità legale. Il programma è un'autorità, che ci si tratta di un'autorità, che si tratta di un'autorità, che ci sono stati vivi in Venezuela. Ci sono stati vivi 30, che praticamente non si tratta di un'autorità, che non si tratta di più, che non si tratta di più, se non si tratta di un'autorità, di un'autorità, che ne sono stati vivi in logica. E il progetto del programma è come vediamo a tutti noi, per fare donazioni, per il Dr. Naccaracas, per cominciare a attenderci a tutti tutti. Mi invito a ascoltare il Dr. Manuel Alvarado, con la domanda di 30. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e il giovane dice, pastor, pastor, no worry no, è scientifico brillante che è mi slapzac, è la che è mi slapzac. Ascini ora vuota self-sufficient, vanno a mirare qui il Diocio di una babbola, perché vuoi rievo messo, non è visto antes, con alemanteca, va dire un poco maggiore, va dire che tog. Il terciere cosa che vuoi fare, prima cosa, il padre, overcome stronghold, guarda, rievo la posizione di Cristo, vuoi avere autorità legale, e due, haci uso, confia, è una posizione di classe che vuoi dare di Diocio, come te sei, so mettevo messo a Diocio e ralammatze che c'è. Terciere, arrepentire, arrepentire, ti ho diverso con il timing, di mia vita a me, come us, vengono, iniziare che quando viveva in San Nicolò, ai di cittadino di San Nicolò, dove i che sei, mi potreiare caramba, come i sei, ma non, c'è e non mi potrei cambiare, c'è Diocio, a cambiare con mani, perché ora mi passi in tempo a andare, non ci sì che vorrò in America poi è una highway, dimostra l'arprezione, perché io sono davanti aluendo, mi avanti a mi pardo, come si che non si tratta la cosa cosa, perché vuoi trovare una rampa, un exit, con la maniera della rampa, una rampa di confezione. E non posso confessare che la vita è robita, ma la vita è robita. Però ho fatto un momento, ho fatto un brugno, ripa e raibe, che ho fatto un brugno di glacia. Ora ho fatto un brugno, ho fatto un brugno, ho fatto una rampa di barra, che è un barra, un barra di restaurazione, ho fatto restaurare la relazione con Dio. Ho fatto un cammino per direzione casa. La mia vita è l'occhio, però confia in me. Ora ho fatto un bel regalo che ho vinto, un cammino per direzione casa, ho avuto un po' di soltà, non ci sono anche un po' di soltà, perché voglio fare una salvazione. L'indico che mi eserciano molto più facile, e allora ho fatto un arrepentino. Una scena di una scena di Passo di Frise è stata dal lato l'escazione di Gesù, con effetti a realizzare che il risultato di morire, un morto. Prendi perdonare il risultato. Prendi perdonare il risultato. Però il risultato non. Prendi il risultato. Corri a me. Che succede? Prendi il risultato. No. È tardi. Ora si è il risultato di Gesù. Il risultato di nuovo grossi. Il risultato di più. Un giudato di più. È un risultato di ciò. È il risultato di nuovo. Il risultato di chi si trinfetto. Il risultato di innamorato il risultato di risultato. È il risultato di nuovo. È un risultato di nuovo. È un risultato di resistere il dietro. C'è un risultato di non fare la vita di Pascua. è il suo sogno, è il suo sogno, è il suo sogno di Dio e non puoi capire Dio e capire Dio. Questo è davvero duro. Forse ora passa il processo di cominciare a capire di vista Dio. Come ti faccio? Guarda la Palabra di Dio che vi e papià. È scritto, è scritto. La Biblia non sta un buco perché sa che buona opinione sta. Stop di leggere la Biblia e cominciare a leggere la Biblia. Non si leggere la Biblia, non si leggere la Biblia. Non si leggere la Biblia. Non si leggere la Biblia nella vita. Non. Se leggere la Biblia, non si leggere la Biblia. Poi leggere la Biblia per aggiustare la vita. Non si leggere la Biblia. C'è la differenza? Ora qua ho sentito, ho sentito, senza manipulazione, non bisogna come cristiani, nessuno si leggete a un identificamento con Cristo, non conosce un politico qui nella Rupa che ha dimentato politico. E poi non si entra pura di un cristiano, non si è chiesto. Però nessuno non sa. Non c'è nessun coraggio di vivere in l'antibismo come cristiano, tal e tal del corso. Un bia, un pareggio, cinquenta anni, sessenta anni, a casa. Non c'è un accidente di pisa. E' un bia, un bia, un pareggio, cinquenta anni, sessenta anni, a casa, non c'è un accidente di pisa. E' un bia, un bia, un pareggio, cinquenta anni, sessenta anni, a casa. Un sa chefe hoato, avrei, Fini di fare in Pol e�, una casa esti moriero, tu dai, tu dà un bia medicino. Dice, voi non sta praticando medicina, che sta aborto. Stop di visti per nel di Cristo. Stop di riusa a plasci in avuto. Jesus is my driver. Te velco, bo sabon da mine. Voi porti in vergüenza di identificar me con Cristo. Voi non porti in vergüenza di sei. Tutto lo che ame ha, e non è un asesino, e non è un pastor, non è un predicatore, ma di Dice, non è un don per comprender il suo mensaggio, la sua parola, e l'explicare in maniera pràctico per la gente comprender. Ami, non sta rana come cristiano, non è un po' di esconder. Adesso, ora, voi è gaccello, come che è riconoscevo? Non è un po' di morire con tante in vergüenza di se riconoscere, se mamma conoscere tutta la famiglia, se mamma, che ha un cicatismo horroroso, maro, espantoso, in su cara. e non mi amava, a confronto è molto, non mi amava, se è un cicatismo, e non mi amava, dico, non mi sape come, se è un cicatismo, un biazzo, non mi tratta per fuor, corta palo, madera, anti-forno, e bota in paradiia, con mananza, per la candela. Ora, ma vore che candela, ancora, c'era un po' di morire ma cora dentro a casa, ma saca mi di ultima, poi di questo cli, poi di questo uic. Ora mi stai colando i miei scoti, corriendo a fare l'effetto, un pilar di casa da mia moglie, con candela da mia cara. Pensei che c'era il cicatrice molto qui. Prendi che c'era il cicatrice molto che mi aveva, per salvare la bobbia. Prendi che un giorno, mi aveva un rambo peccano, con un buraco e clavo dentro la sua mano, dentro la sua pia, un buraco nella sua mano di corpo. E mi aveva un ragazzo, per salvare l'ambo e il turco. Prendi la verga e la presenza nella sua vita. Rafa, non ci si voi siano un dia, non? Noi, certo? Quelle mail di un altro che è il mensaggio. Per qu'è il divino di un'apertuito, per qu'è mettere il tuo filo di pasta? E pò che il dolore della sua vita? E il lo Holy Week. Il ha dato che ci sarà il nostro stromtere, il nostro poccale. Il messaggio che, ci siamo di un hospital, ci siamo di una pezione che stanno morto, ci siamo di comitare suicidio, ci siamo di un dolore della vita, ci siamo di una vita, ci siamo di un'apertropella! Pra qu'è il dolore di vita? E noi ci siamo di un'apertante. E' stato in questa maniera una bomba, andiamo a correre l'auto, e mi chiede a mettersi, qua tra i ragazzi, una bomba è dentro l'auto, è stato così un boss, e io sono spinto. Ma io mi chiedo, mi guarda una bomba, ma mi chiede a fare una bomba, e io mi chiede a fare una bomba, e io mi chiede a fare una bomba, ma che era una bomba che era una bomba, e la bomba è una bomba che era una bomba, e io sono spinto, papi, papi, una bomba è una bomba, ma l'abbiamo mi dimmi io mi dimmi se espanta mi dimmi se grita ma l'abbiamo non è possibile ma l'abbiamo mi mamma mostre adesso pui adesso steng è unico steng che ti che ti passa nel cielo di calvario questo è unico steng è unico pui di diablo che mi ha morto non c'è unico steng 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 che il satanale è dominato perché Gesù ha detto che il suo potere capa Gesù ha detto pensi a me confia a me a me di camminare a me di verità a via me non c'è l'abbiamo nel cielo è quello che mi ha detto con abo e a me e tutti i cristiani non c'è mai il cielo che non c'è che non c'è una buona vita che non c'è una buona vita non c'è un motivo e solamente un motivo per che noi ci siamo a me a me a me e l'abbiamo qui a me ha detto non c'è into l'abbiamo av resource io mi c'è un veramente tu messo la mia vita, ma non lo poteviste guardare, ma non lo poteviste guardare, ma non lo poteviste guardare. E' un'altra persona portata e dice, caramba, quel cancio è il mio papà, quel cancio è il mio papà, quel cancio è il mio papà, è arrivato, invece sembra niente più gente. È possibile portare la sua cosa de scripture che mi servei in ampiro, che le le costano che la scuola fosse un间icolino per questo, che era accorto e creduto non ciingo. V marksman, grazie per aver spazzmato un po' parte d' Gender's gracio per aver formato un progetto di osservazione, per aver visto qualche modo che èlappingato per aver guardare, abbiamo visto molto giusto per aver guardato Si, c'è una transizione, c'è un cambio di vita fisico, mentre con noi si esistono la curva fisica, con necessità fisica, questo è tutto un luogo all'arriba del mondo. Ma, sin embargo, con il fin di vita fisica, qui batte nella nostra porta, che si chiamano morto, c'è una transizione. Non importa quina riqueza, quina fama, quina cosa si può alcancare la mia vita, ma sobra che nessun di non non serviva per nulla. Bebe la mia stabilezza, guarda il tesoro non, d'inchelo, onde il morto e il frustro non l'affectano. Che è sempre. Che è sempre il tesoro non, che ci hanno bisogno di attesorare e ci hanno di manifestare nella mia vita fisica. Ci sono tre cose principali che ci hanno avvenuto. È per me, è il amore universal di Dio, è di Dio, è la compagione, per noi stiamo di compasione con l'altro e di tristare il perdono. Applicando le tristezze di vita, ci sono realmente un cambiamento grande in ogni idoso. E spero che questa parola sia un po' di alba e che sia un po' di frutto. Grazie, Romano. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.